No, 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 oggi è parte di faccio. E se le signore permettono cominciamo da figli, nipoti e loro annessi. Allora, alla signorina Angela facciamo una bella mozione. A Vicenza invece c'erano una bucurilla, questo scappucchione di guardiella, ci facciamo doppia porzione. A domenica invece c'erano sulle pulpette. Perché papà, che hai fatto? Ossaccio, ossaccio, siamo arrivati sulle pulpette. A Peppino invece... Tre, tre. Facciamo un piatto regolare. Più la nuova. Marie. Eh papà. Marie, tu ti hai fame? Perché lo sai, papà ti resta un ruolo sano sano. Grazie papà, solo un po' più. Eh, è giusto, è giusto, le signorina devono andare alla linea. E allora a Titina ci facciamo le stesse piatte di Marie. Eh papà, amore, facciamo la sticcheria dura. E invece a Eduard, oi, teramma, a Eduard le facciamo la porzione più bella. Sì, bella. Non è, portami a Paschalina qua. Grazie Gio. Oh, portami a Paschala, non è. Portami a Paschalina mia. E a Paschalina, oi facciamo mangiare direttamente lo piatto mio. Bravo. Eh? E' contenta, da Zizia. Non mi ascolare. Vabbè, va bene. Vabbè, va bene. Servite pure, servite pure. Buon appetito, buon appetito. Buon appetito, mangiate. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Grazie.